Mario Mocsedano, sempre sulla briccia, anche quest'anno Mario è fatto un grande campionato a Fratta Maggiore, molti sperano che tu possa trasferire la Neapolis, cosa c'è di vero al riguardo? C'è di vero che abbiamo avuto un incontro con il sindaco di Fratta Maggiore, devo dirti che è una persona eccezionale che si è messo veramente a disposizione, c'è una bellissima struttura, un campo nuovo in erba sintetica dove ci possono essere le condizioni per poter fare calcio a Fratta Maggiore, perché non dimentichiamo che è una zona che ha una grossa tradizione sportiva, calcistica. Certo Mario, io sono molto conosciuto a Fratta Maggiore perché ho fatto tantissimi tornei, la giù conosco tutti e una tua andata a Fratta Maggiore sarebbe per questa trasmissione un aumento esponenziale di tifosi al video, oltretutto già tantissimi mi hanno chiamato per sapere da me qualcosa, ho detto di vedere stasera Golden Girl e abbiamo detto qualcosa, ormai hai aperto il cuore. Mario, purtroppo c'è un problema, la Lega vuole dei campi che abbiano delle agibilità, noi dobbiamo fare di tutto per metterci nelle condizioni migliori di poter presentarci senza avere grosse difficoltà, per non dare possibilità a chi sta in alto di ostacolarci, allora a noi qualsiasi campo va bene, però ti ripeto che Fratta Maggiore è una città dove il calcio manca da molti anni, a noi farebbe piacere veramente fare calcio in quella città, ma soprattutto ti ripeto, ho visto un'amministrazione, un sindaco, un assessore che veramente sono molto attente a questo e hanno un grande entusiasmo per poter vedere una squadra vera, una squadra che fa calcio nella loro città. Ma mi sa che succederebbe Fratta? Ma io dico solo che succederebbe... A Fragola, Fratta Maggiore, Fratta Minore... No, ma io sono una sola cosa, pensa che noi che sono due anni che facciamo calcio senza pubblico, se ci presentiamo in un campo dove ci possono essere, non dico molto, ma mille, duemila spettatori, diciamo... Molto di più, Mario. Cosa è successo oggi? Mario, finale torneo di Natale, qua c'è il pastore che ne è testimone, noi facevamo cinquemila spettatori a Fratta Maggiore. Ah, io te lo auguro, sai, a me arrivare a playoff in questa stagione senza un pubblico e giocare un anno intero a Porta Giuseppe è già stata un'impresa storica. Se noi possiamo avere la possibilità di avere una struttura come quella di Fratta Maggiore, perché veramente è una bella struttura, anzi faccio di nuovo i complimenti a chi l'ha realizzata, per noi sarebbe una grandissima soddisfazione. Avere anche un pubblico che ci sostenga, figurati un po', potremmo veramente incominciare anche noi a utilizzare un altro linguaggio. Quando andiamo sui campi non andare più da sole, squadra e dirigente, ma avere magari un secolo di 100-200 persone dietro. Certo, e poi voglio dirti, là è pieno di scuole calcio, per cui c'è un bacino d'utenza per quanto riguarda ragazzi da scoprire, enormi, eccezionali, eh? Voglio dirti anche quello da non trascurare. La campagna ha dimostrato che negli ultimi anni sono usciti, tutti quanti lavorano bene nel settore giovanile, e il segretario Pastore lo sa molto meglio di me. La campagna lavora bene con i giovani, ce ne stanno tanti. Uno deve cercare, anzi, deve approfittare di queste nuove regole che ci stanno, perché tu devi pensare che l'anno prossimo, addirittura in G2, ci vogliono 3,91. Tu devi essere, devi stare alla ricerca continua di giovani talenti, che puoi mettere nella squadra e presentarli alla grossa ribalta. D'accordo Mario, grazie, continuiamo a parlare tra poco.